Ciao a tutti, martedì 23 gennaio, vi confermo come vedremo tra poco quanto vi avevo già detto nel video di Repilogo Serale, ovvero stiamo assistendo ad una dicotomia di rendimento tra i principali indici americani e quelli europei, perché anche ieri Dow Jones, Standard & Poor's 500 e Nasdaq 100 hanno toccato nuovi massimi storici e i Nasdaq Composite nuovi massimi di periodo. Vediamo subito con la condivisione dello schermo quanto ho appena affermato. Dow Jones nuovo massimo storico a 38.109, chiusura 38.001, non vedo al momento particolari pericoli perché questa forza sul Dow Jones possa venire meno, il livello che dobbiamo tenere monitorato è il massimo della congestione che ha accompagnato il Dow Jones dal 14 di dicembre al 18 di gennaio, ovvero 37.825. In sostanza sarei preoccupato soltanto da un ritorno sotto 37.825 perché rientreremmo nel famoso box di congestione che vi ho disegnato più volte e allora anche questo fortissimo trend rialzista potrebbe avere una pausa. Standard & Poor's 500, nuovo massimo storico a 4.868, la differenza rispetto al Dow che è rimasto aperto un gap a 4.842 sul massimo di venerdì. Per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500 da notare c'è che la candela di ieri è una shooting star quasi gravestone doji per cui è sicuramente una candela più pericolosa rispetto a quella disegnata dal Dow Jones, però anche qui sarei soltanto preoccupato dalla perdita di 4.802 che è il massimo del 12 di gennaio. Diciamo che il primo alert ce lo potremo dare sul precedente massimo storico di inizio gennaio 2022, 4.818. Nasdaq Composite, ecco sul Nasdaq Composite in particolare l'aspetto più preoccupante è il triplo gap in sequenza, i tre gap scusate in sequenza lasciati aperti. 15.310, 15.066, 14.865. Ecco mi sembra che sia un po' eccessivo questo, anche se il Nasdaq Composite è quello rimasto più indietro tra i principali indici americani lasciando ovviamente il Russell. Se andiamo a vedere il target del movimento può avere un completamento non tanto sui massimi storici che mi sembrano fin troppo ambiziosi a 16.212, quanto a 15.852, 15.901. Però tre gap sono anche troppi, per cui il rischio di chiusura, almeno del primo gap, 15.310, poi un eventuale test del precedente massimo relativo del 28 di dicembre, 15.150, non è da sottovalutare. Però attenzione che nemmeno sul Nasdaq Composite vedo particolari timori perché questo trend così positivo possa venire meno e noto con piacere che sia Stocastico che MACD che RSI hanno girato al rialzo. Nasdaq 100, la configurazione del Nasdaq 100 è ovviamente molto simile a quella del Nasdaq Composite con la differenza che il massimo di ieri a 17.450 non è stato un massimo relativo ma un massimo assoluto. La differenza rispetto al Composite è che ha già chiuso nella seduta di ieri il gap che era stato lasciato aperto sul massimo di venerdì a 17.317. In caso di ritracciamento, in questo caso, il primo livello importante è la chiusura del secondo gap, quello sul massimo di giovedì a 16.996 e poi il 16.969 massimo del 28 di dicembre. Come però per il Nasdaq Composite, anche qui non vedo al momento segnali che la grande positività in essere sull'inizio tecnologico delle più importanti 100 capitalizzazioni americane a tema tecnologico possa tornare indietro. Veniamo adesso al Russell che è un po' il più problematico di breve periodo ma ieri fa quasi una Marboz White 1960-1984 e direi che può ambire a questo punto, come vi ho già detto, a 1995 massimo del 3 gennaio che poi a chiudere il gap lasciato aperto sul minimo del 2 gennaio, 2000-03. Fuzzimib Futures, purtroppo situazione ben diversa perché qui rimaniamo sì in un trading range di massimi pluriennali però la sensazione che sia più probabile un ritorno a 30.145-30.005 che è il minimo della congestione e a 30.060 c'è la media mobile a 50. Come vi ho già detto in caso di rottura ribassista che al momento mi sembra più probabile, mi sembra che sia un movimento distributivo questo partito dal 6 di dicembre poi ovviamente c'è stata molta battaglia non c'è nulla di definito però diciamo che in caso di rottura di 30.005-29.9 mi paiono abbastanza scontati poi come vi ho detto minimo del 30 di novembre 29.690 andiamo a vedere i futures e sono invariato il DAO più 0,04 lo standard import 500 più 0,10 il Nasdaq 100 più 0,24 l'AS2000 più 0,22 per il DAX più 0,27 per l'Eurostox Nikkei meno 0,73 come vi ho già detto c'è questa notizia sulla politica monetaria ultraespansiva che rimane invariata perché comunque c'è stato sicuramente un dato su un'inflazione che ha incoraggiato la banca centrale giapponese a mantenere questa politica ultraespansiva anche perché comunque le stime per il 2024 parlano di un'inflazione al 2,4% dal precedente 2,8 il numero di giornata lo sta facendo Langseng Nikkei meno 0,78 scusate Langseng più 2,83 qui sembrerebbe che il motivo sia il pacchetto per 278 miliardi di dollari da parte del governo cinese per ripristinare affluce agli investitori sulla nazionale atto cinese e di riflesso anche Langseng ne sta beneficiando però attenzione perché ieri vi ricordo che ha toccato i minimi degli ultimi 19 anni Singapore meno 0,19 e Cospi più 0,42 notizie price sensitive cominciamo da Olidata se vi ricordate Olidata ve ne avevo già parlato direi una barra due settimane fa perché mi piaceva questo laterale prolungato e normalmente questi range così stretti portano a dei movimenti direzionali molto violenti e devo dire che questa nota per cui Olidata ha chiuso con EBITDA in crescita del 300% ha confermato i target del piano industriale esteso al 2026 che prevede anche la crescita attraverso Merge and Acquisition potrebbero favorire un'uscita a rialzo o quantomeno un ritorno sulla media mobile a 50 0,54,5 media mobile a 100 0,59,3 questo massimo del 2 di gennaio è 0,58,5 quindi sicuramente Olidata da seguire invece a livello di Fuzzimib Enel che ieri ha staccato per cui è già arrivata sul supporto di 6,32 e come vi ho detto potrebbe anche proseguire nella sua correzione con un primo target sulla media mobile a 100 6,24,5 poi 6,23,6 quindi 6,18,5 che è il minimo del 14 di novembre ha concluso il programma di buyback sulle azioni avviato il 16 ottobre nell'ambito del quale sono state acquistate complessive 4,2 milioni di azioni Enel pari allo 0,0413 per cento del capitale sociale a prezzo medio ponderato per il volume di euro 6,3145 per azioni per un controvalore complessivo di 26,52 milioni di euro poi per quanto riguarda invece Salvatore Ferragamo titolo che abbiamo assolutamente dovremmo avere assolutamente la nostra voce di liste perché è su livelli veramente importanti è stato nominato un nuovo CFO con decorrenza dal 18 marzo prossimo Pier Latour pensavo fosse Pier Latour ma magari mi sbaglio io comunque adesso poi verificherò vi ho già detto qua come la situazione sia abbastanza critica perché il rischio è di vedere il titolo ancora su livelli inferiori rispetto agli attuali 10,12,10,04 poi addirittura si parla di 9,50 9,49,8 terza settimana di marzo del 2020 concludiamo con DirectaSim DirectaSim graficamente è in training range diciamo che il training range è abbastanza ampio perché tra 3,36 e 3,72 c'è una notizia per cui l'azionista Giacomo Marino Giancarlo Marino ha comunicato la riduzione della propria partecipazione al capitale sociale al di sotto della soglia di rilevanza del 5% però ha mantenuto 4,997 sono minimi arrotondati per cui nonostante questa notizia questa riduzione di quota da parte di questo soggetto rilevante 3,63 massimo dell'8 di gennaio e poi 3,72 i prossimi obiettivi per Directa per questa mattina ho concluso auguro a tutti buon trading e noi ci aggiorniamo dopo la chiusura del mercato diurno e noi ci aggiorniamo